cari amici appassionati di grande ciclismo puntata triste perché di solito quando finisce un grande giro una corsa a tappe di tre settimane a tutti rimane l'abitudine il pomeriggio di andare ad accendere la tv o ascoltare i notiziari per capire cosa è successo eh purtroppo questo giro è finito è finito increscendo nonostante abbia avuto un dominatore incontrastato che parrebbe almeno sulla carta aver appiattito l'interesse e invece secondo me lo ha creato è stato veramente un giro emozionante per lo più grazie a Tadej Pogacar ci sono state però all'interno della corsa tanti altri avvenimenti interessanti ma andiamo con ordine e eh torniamo dove ci siamo lasciati eh ci eravamo lasciati in montagna alla vigilia della tappa che da fiera di premiero portava il corridore a Padova con centottanta chilometri e tutto sommato abbastanza pianeggianti era scritto fosse una volata e i due sprinter più forti presenti al giro d'Italia se la sono lottata fino all'ultimo ed è stata proprio una questione di centimetri come testimonia il photo finish vedete con Groves in terza posizione una bellissima volata Dainese il padrone di casa si è dovuto accontentare di un di un piazzamento sembrava eh che fosse nelle sue corde poter vincere questa tappa era partito forse un pelo eh lungo ma al momento giusto per anticipare questi due mostri e eh quando dico mostri eh già eh quella foto che abbiamo visto prima lo denota vedete il fisico da granatiere di Milan lo conosciamo eh Tim Berlier è un corridore che nonostante abbia avuto una primavera un po' complicata ha trovato la forma giusta e eh le volate che ha disputato l'hanno dimostrato Agnolkowski il polacco della Kofidis in quinta posizione poi Gaviria Michels bravo Davide Ballerini anche se non sono queste le sue volate e poi Pasqualone Zanoncello nei primi quindici a eh certificare quello che eh sono i valori in campo in eh fatto di volate diversi corridori azzurri ed è stata una una bella cosa e eh la classifica riparte il giorno dopo da Mortegliano per andare a Sappada cioè quindi dalla provincia di Treviso si va eh in questa bellissima località eh alpina eh non è una tappa di montagna una tappa di media montagna con un paio di salite anche impegnative abbastanza lontane dal traguardo e anche abbastanza brevi come sono un po' le salite delle Alpi Carniche brevi e molto ripide non molto non molto elevate un percorso dicevamo che sembrava adattarci alle fughe infatti King Pogacar lascia fare si partiva con questa classifica a sette e quarantadue eh Daniel Martinez a otto minuti abbondanti Garain Thomas o Connor a nove quarantasette oltre dieci minuti il nostro Tiberi eh bravo Filippo Zana nono Lorenzo Fortunato undicesimo e Davide Piganzoli tredicesimo quindi molti azzurri e tutti molto meno giovani un po' meno giovane eh Domenico il posto vivo che comunque è ancora ventesimo quando siamo alla partenza della tappa di Sappada eh come abbiamo detto eh è stato concesso eh libertà agli attaccanti ci stava ed è stata una tappa che meritava di avere eh degli attaccanti che potessero disputarsela un fugone iniziale con molti corridori al all'attacco una tappa che comunque eh insomma era tutt'altro che da disprezzare perché eh comunque come abbiamo detto le salite c'erano eh stato bravo eh Andrea Vendrame corridore di Conegliano Veneto quindi corridore possiamo dire quasi di casa si è eh battuto come come un leone è stato veramente molto bravo perché nelle salite perdeva qualche secondo eh dai suoi diretti avversari primo fra tutti alla Philippe e eh in discesa li riprendeva sulla penultima discesa ha tirato dritto e ha guadagnato trenta secondi poi quaranta poi un minuto e nell'ultima salita quella di Cima Sappada ha addirittura incrementato il suo vantaggio e arriverà al traguardo comunque con un minuto in questa tappa tre mila duecento metri di dislivello distribuiti su meno di centosessanta chilometri quindi il dislivello comunque c'era. Steinhauser un finale di giro eh eccezionale per questo ragazzo tedesco vincitore lo ricorderete eh due tappe prima Narvaez anche lui vincitore della prima tappa la prima maglia rosa era parte della fuga così come Simone Velasco che si è classificato al sesto posto. Naufragato nel finale Julian Alaphilippo forse troppo generoso nelle ultime salite prima di affrontare Cima Sappada. Manuele Tarozzi eh ragazzo esordiente al Giro d'Italia della WF Group in undicesima posizione Mattia Baez una posizione dietro di lui. Eh Alessandro De Marchi anche lui si è rintrofolato nella fuga ma probabilmente le gambe di Alessandro non sono più quelle di qualche anno fa però la grinta sì arrivava vicino a casa sua voleva farsi vedere e lo ha fatto. Il gruppo eh avrà un quarto d'ora di distacco sul traguardo quindi eh una tappa diciamo quasi di riposo per i corridori del per i corridori del in lotta per la maglia rosa quindi con una classifica che rimane praticamente immutata si va ad affrontare la tappa del Monte Grappa. Ho detto praticamente immutata ma poteva avere veramente un risvolto molto molto più complicato perché Garen Thomas sullo scolinamento di Cima Sappada ha ruotato eh un suo avversario è caduto a terra ma con grande fair play nella discesa bagnata lo hanno aspettato e quindi ha potuto eh rientrare. Qualche numero per la eh tappa del Monte Grappa che io alla vigilia del giro avevo definito come la tappa chiave più del Mottolino anche se poi alla fine al Mottolino ha dato la botta finale Tadei e Pogaciar. Allora tappa non lunghissima 184 chilometri contro i due venti del tappa di Livigno però 4.500 metri di dislivello tutti dislocati negli ultimi 100 chilometri praticamente perché la doppia scalata eh del Monte Grappa porta 2.700 metri solo eh questa poi è stato inserito a metà discesa un passaggio eh probabilmente per passare da una località un villaggio turistico per farlo conoscere con uno strappo di un chilometro e mezzo decisamente impegnativo. Comunque corsa molto lineare se non fosse perché al primo passaggio dal Monte Grappa eh il nostro Pelizzari corridore marchigiano veneto di eh Radici ma eh nato e cresciuto anche ciclisticamente nelle Marche eh a metà del Monte Grappa se n'è andato ha ripreso i fuggitivi a cento metri al GPM e ha conquistato il primo passaggio del Monte Grappa eh e si è buttato in questo attacco. Al secondo passaggio eh Tadei Pogacar ha messo la squadra alla frusta se n'è andato e ha ripreso sei sette chilometri prima del finale proprio Pelizzari ha anche pensato in qualche momento di attenderlo ma era troppo forte ha staccato tutti ha scolinato con due minuti pensate ha avuto in fondo la discesa due minuti e quindici di vantaggio quindi ha guadagnato addirittura anche in discesa da solo nonostante dietro Thomas e Martinez si dessero battaglia è arrivato al traguardo i festeggiamenti dietro Cerrabagar due zero sette il risultato del loro ritardo quindi ha dimostrato che avrebbe potuto fare anche di più ma eh il Monte Grappa nonostante sia solo tra virgolette eh mille settecento metri dove scollinavano perché non si arrivava ovviamente al all'ossario perché eh finisce la strada quindi si scollinava praticamente a un chilometro dalla vetta si girava a sinistra anziché a destra e si è affrontato per due volte dal versante di Semonzo un versante molto molto impegnativo anche perché sono diciotto chilometri all'otto per cento medio con un breve tratto di falso piano prima di Campocroce è una discesa eh prima di arrivare al bivio per Archezon Monfenera c'è una discesina di quattrocento metri trecento metri che comunque fa perdere un centinaio di metri di dislivello come minimo perché è abbastanza ripida quindi un'impresa che rimarrà nella storia ma al di là delle vittorie e della qualità atletica che ha fatto vedere in questa tappa Pogaciar abbiamo avuto la conferma intanto lo scenario incredibile del Monte Grappa ma ne parleremo dopo abbiamo visto che questo ragazzo che ha regalato la maglia per gli sari gli ha regalato gli occhiali eh regali cappellini ai bambini è rimasta negli occhi di tutti eh la fotografia le immagini in cui eh si prende la briga di prendere una borraccia dal massaggiatore per passarla al bambino che era dalla parte opposta della strada ma poi sono venute fuori altre istantanee altri filmati fatti da gente che era a lungo percorso e da qualche fotografo o professionista dove lui eh praticamente dispensava il cinque eh eh regalava le borracce e aveva un saluto per tutti qualcuno l'ha fatto anche un po' arrabbiare a dir la verità fumogeni e qualcuno che gli metteva le mani addosso ma calcolando che c'erano centomila spettatori secondo gli organizzatori lungo il percorso eh cinque o sei episodi di maleducazione sono veramente una percentuale trascurabile sempre troppo perché una volta che fa ma eh capisco anche che chi da ora aspetta un campione lo vede lì possa anche perdere la testa non va fatto però diciamo che non giustifico ma posso comprendere eh Pogaccia è arrivato con due minuti su Valentin Renpetre e eh Danny Martinez che hanno vinto la la volata si è confermato Antonio Tiberi molto bravo arrivando in questo gruppetto al pari di Rubrio Pellizzari che ha tenuto botta eh eh al rinvenire nel gruppo dei migliori O'Connor Storer sorprendente ha perso pochissimo una ventina di secondi sull'ultimo scollinamento e con questi è arrivato al traguardo Rafa Maica eh mi piace sottolinearlo si è classificato decimo in questa tappa dopo aver lavorato moltissimo quindi ha dimostrato che anche la sua squadra era all'altezza della situazione un po' in ombra i nostri azzurri Piganzoni il più bravo dei giovani nove trentadue sedicesimo fortunato ventesimo a nove cinquantaquattro così come Zana Posto Vivo Zambanini Aleotti e Velasco quindi eh c'è stato un un blocco azzurro nelle posizioni di rincalzo comunque è stato un piazzamento eh più che più che onorevole quindi eh qui sono già volato a Roma ma eh credo che il Montegrappa ha due parole eh ulteriore le meriti perché è uno scenario in cui io vedrei eh bene concludere il giro eh tutti gli anni con una delle sue tappe più difficili nell'ultima settimana anzi un consiglio visto che a maggio c'è spessissimo neve e condizioni di maltempo quando si superano i duemila i duemilacinque duemilasei di un passo gavio duemilasette del Stelvio eh probabilmente nella penultima settimana il grappa potrebbe essere lo scenario adatto per eh una tappa di montagna eh l'ultima tappa come è stato quest'anno secondo me è un sceneggiatura scritta da un grandissimo regista guarda è stata una cosa splendida vedere tutte quelle persone che fin dal mattino eh hanno eh aspettato Pogaccia e lo hanno osannato grande grande la sua vittoria però eh abbiamo visto la foto prima andiamo per un attimo a Roma perché qui è un altro appello che vorrei lanciare cioè eh in eh un giro d'Italia siamo il paese più bello del mondo diciamo secondo me lo siamo abbiamo la storia più ricca di tutti eh una città come Roma con monumenti che il più giovane ha duemila anni vedere finire il giro d'Italia in questo contesto sinceramente a me ha entusiasmato e non poco il circuito era molto bello per la cronaca Timberliera battuto Jonathan Milan e Caden Groves Gaviria in quarta posizione quindi tutti i velocisti più forti sono andati in battaglia Dainese e Lonardi sono dovuti accontentare del sesto e settimo scusate settimo e ottavo posto con anche Pasquale a ridosso del della Torten undicesimo quindi un buonissimo risultato per lui eh una tappa che anche dal punto di vista degli sprinter ha visto il tre a tre di eh Merlier anche se a onore del vero una foratura sette chilometri dall'arrivo ha eh penalizzato moltissimo il nostro Jonathan Milan ma è riuscito a rientrare e anche a sprintare classificandosi in seconda posizione veniamo invece al podio perché è veramente un podio eccezionale vedere un podio col Colosseo dietro quando penso che i francesi si vantano di avere un monumento che ha meno di centocinquant'anni eh in ferro che ogni quattro cinque anni bisogna dargli l'antiruggine e noi avere un monumento di duemila e cinquecento anni come il Colosseo credo proprio che non ci siano discorsi non c'è eh non c'è nulla che tenga allo scenario di Roma è secondo me irripetibile e irrinunciabile qui un monumento molto più recente l'altare della patria vedete la bellezza eh di questa città ma eh veniamo alla conclusione perché Pelizzari vestiva la maglia azzurra del Gran Premio della Montagna eh anche se non era suo di fatto perché l'ha conquistato con tutti quegli arrivino in salita Tadej Pogacar Jonathan Milan ha vinto la classifica punti e eh molto bravo anche Tiberi che ha conquistato la maglia bianca dei giovani quindi eh diciamo che siamo stati competitivi eh direi molto competitivi in questo giro d'Italia ci è mancato probabilmente l'acuto probabilmente ci manca eh un corridore come Tadej ma non è che ce l'hanno in molti un corridore di questo genere vorrei anche sottolineare la prova di Pelizzari perché partito eh Benino poi al secondo terzo giorno si è ammalato ha avuto problemi ha rischiato addirittura di eh dover andare a casa però nell'ultima settimana ha compiuto un paio di imprese il secondo posto dietro eh Pogacar in Val Gardena e l'azione incredibile sul grappa gli sono valsi gli applausi di tutti quanti così come la regolarità di Tiberi è stata veramente eccezionale tra l'altro un laziale che arriva eh con la maglia bianca in quinta posizione al giro d'Italia eh nella sua Roma è una cosa sicuramente molto 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 bello lo ripeto ancora altri azzurri undicesimo dodicesimo e tredicesimo Zana Fortunato Piganzoli di stacchi molto alti però sono a ridosso della top ten e credo questa sia una buona cosa eh i grandi vecchi Caruso dicesettesimo e eh eh posto vivo ventesimo che ha così ottenuto questo record di diciotto giri d'Italia portati eh a termine in mezzo anche Luca Covilli diciottesimo altro corridore della VF Group che così piazza tre corridori nei primi venti quindi ottimo grande il giro della VF Group anche se dobbiamo dire che la squadra di Pogacar che sembrava nelle prime tappe debole invece ha dimostrato alla fine eh di essere eh decisamente una squadra forte nelle tappe specialmente quelle più difficili hanno dimostrato di essere veramente molto molto in gamba. Siamo in conclusione di questi appuntamenti cadenzati sul Giro d'Italia però per voi ho in serbo una sorpresa mercoledì sera eh faremo un'intervista a Paolo Savoldelli sul Giro d'Italia eh sapete la sua sagaccia il suo occhio acuto molto scaltro ed intelligente ci aiuterà ad analizzare meglio a botta un po' più fredda quello che è successo in questo Giro d'Italia e sentiremo cosa ha visto lui di interessante quindi l'appuntamento è per mercoledì per il momento un saluto e un ringraziamento. Grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori e